Da dove arriva tutto questo freddo? Dov'è che sento tutto questo freddo? Da dove arriva tutto questo freddo? Dov'è che sento 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 tutto questo freddo? Ilaria dove? Adesso dove? La doppista al corteo con la maglia del C. Urlava? No, alla vostra merce! Mentre ingoiava cioccolata Nestle! Con i capelli dritti Alive di Miss Kids Con i proiettili Alive di Fifty È davvero influenzabile, credimi Appena la vedi, subito ne approfitti Vive la spiritualità, evangelica, dianetica, culto di Ra Culto di Gia, cambia il culto di Gia Dipende da cosa va in città Lei non beve ma puzza di rum Lei non fuma se non i cilum La fila sai baba, la setta di Moon Ma all'anima di un angioletto di Thun Iaria condizionata, all'aspettato la mia giornata 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 Iaria Quanto freddo E' l'anima Iaria Sei gelida Così gelida Che nevica Sei, sei cadaverica Sei, sei disfacciata Ghiacciata Sei cambiata Iaria 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 condizionata, all'aspettato la mia giornata 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 non mi interessa quello che pensi di me tanto sono sposata pure sì, mio marito è il leader del fronte e sta costruendo lo spazioporto pugliese cosa diamine è? uno spazioporto uno spazioporto è